La foglia di Laga Sovrana. Oggi, come anche nel passato, ma nel passato era molto più distribuita nel tempo questa foglia generale, oggi vediamo ogni giorno che passa questa malsanità mentale quasi delle persone arrivare in superficie molto più velocemente rispetto al passato. Ed ecco che sembra che all'esterno non ci sia nessun senso, sembra che all'esterno non ci sia neanche più un appiglio concreto al quale fare riferimento. Ed ecco che la follia diventa la normalità. La pazzia generale diventa il nuovo mondo ordinario nel quale accettare di vivere o di sopravvivere. E le persone hanno sempre meno uno scopo verso il quale dare la loro esistenza. Ecco, senza uno scopo l'essere umano è perso. Senza uno scopo, senza il famoso senso della vita, del video di ieri, l'essere umano non sa, non è certo che il passo che compirà successivamente a quello già compiuto sarà quello giusto. O lo porterà sempre di più vicino al baratro. Oggi più che mai la follia dilaga. La follia è sempre più presente. All'interno di noi il caos, la mancanza di domino della nostra mente, la mancanza di domino delle nostre emozioni porta a quello che oggi stiamo vivendo. Vivendo alla paura, allo sconforto, alla disperazione, a tutte quelle emozioni pesanti che, ahimè, oggi il mondo è pregno, è pieno. Cosa fare quindi in questi momenti? Trovo a cercare uno scopo, uno scopo interiore. Uno scopo che deriva dalla voce che, sottile, ogni istante della nostra vita parla alla nostra mente. Quella voce interiore che difficilmente riusciamo ad intuire perché una mente non governata, una mente ricca di pensieri, una mente malposta, non focalizzata, tende a generare soltanto che rumore. Ed ecco che la voce interiore viene sovrastata, non viene udita dall'orecchio interno, non addestrato. Occorre un addestramento, occorre entrare sempre di più, sempre ad ogni azione quotidiana, cercare di riconnettersi con la propria divinità interiore, cercare quel Dio interiore che originariamente ha voluto la nostra individuale esistenza. E cercare lì il vero scopo. Perché senza quello scopo che parte dall'interiorità, uno scopo esteriore è difficile da trovare, o, anche se lo troviamo, durerà per il tempo che dovrà durare. Il vero scopo è quello interiore, va cercato all'interno. Quello esterno è effimero e, come sappiamo, il tempo porta via tutto quello che in manifestazione esiste. A noi la scelta. Grazie.